Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi mostrerò come installare Minecraft per Mac Intanto vi ringrazio per i 34 iscritti sul mio canale che sono solo dopo due settimane da quando ho ricominciato a fare video e quindi vi ringrazio molto Partiamo subito con questo tutorial Allora, in descrizione troverete questo pacchetto Mediafire lo aprite, molto semplice ragazzi scaricare questo gioco Sinceramente vi ho messo meno di un minuto se non ci vedete Infatti questo tutorial sarà molto breve Intanto perché poi devo andare perché oggi è la vigilia di ferragosto Mettiamo in chiaro questo Allora, aprite la cartella che sta in descrizione Trovete due file zip C'è un file zip e l'altro di testo che la potete lasciar perdere Quindi cliccate due volte Minecraft.zip e si aprirà direttamente il gioco Lo mettete nella doc se volete Dopodiché aprite il gioco E mettete l'username e potete giocare Allora Enter game Io su Minecraft non è che ci ho Giocato chissà quante volte La prima volta che lo scarico Magari l'ho provato qualche volta a casa di Anish Cioè l'installazione è velocissima Io ci ho messo meno di un minuto per farlo partire Cioè pensateci un po' Pensateci un po' ragazzi Pensateci Mentre intanto il gioco si carica Che cos'è che posso dire? Niente Vi ringrazio Per le visite Per i commenti Più che altro Vi consiglio anche di vedere Il mio video Quello dell'iPhone 5 Che sinceramente È quello che più ho immaginato Allora questo è il gioco Dobbiamo provare Facciamo un single player World Ecco l'inglese Ecco qua a posto Ho creato un nuovo mondo Vabbè quello che sia Io non so giocare a Minecraft Voi saprete giocare molto più di me Siamo a 1.56 Un altro minuto di gioco Per farvi vedere magari Per farvi vedere quanto sono scarso Ve lo posso anche farvi vedere Allora Ve intanto come si gioca Allora Non è che si cammina Così si salta Così si va avanti Come si va avanti Niente proprio Non c'è storia con questo gioco Non ci capisco niente Non ci capisco niente Vabbè ragazzi Che dire Più che farvi vedere Quanto che io non so giocare Noi ci vediamo al prossimo video Divertitevi a giocare Perché io sinceramente Non Non so davvero che fare Magari poi vedrò qualche tutorial Su come giocare Io qua vedo soltanto un martello Che devo spaccare l'erba Vabbè Noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Un buon feragosto a tutti Iscrivetevi Guardate i link in descrizione E alla prossima Mi raccomando Commentate Se volete mettete mi piace E se volete Iscrivetevi al mio canale Noi ci vediamo al prossimo video